Sospensione di tutti i ricoveri programmati e la decisione che a breve dovrebbe essere ratificata dal governo regionale e che è stata annunciata dall'assessore alla sanità Nicoletta Veria a conclusione della riunione del CREA, il comitato regionale delle emergenze, che si è tenuta questa mattina a Pescara e le cui deliberazioni saranno recepite in un successivo provvedimento. Al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle terapie intensive e la disponibilità di personale sanitario per fronteggiare l'emergenza covid-19 dunque si va verso la sospensione dei ricoveri programmati come detto sia medici che chirurgici in tutte le strutture pubbliche sedi di pronto soccorso. In più per i pazienti provenienti dai pronto soccorso sarà possibile effettuare solo ricoveri con carattere d'urgenza non differibili. Sono esclusi dai ricoveri programmati gli interventi oncoematologici di classe A e di alta specialità. Proseguiranno anche l'assistenza al percorso nascita e le interruzioni volontarie di gravidanza. I ricoveri in regime di day hospital poi seguiranno lo stesso percorso già delineato per la specialità ambulatoriale. Vale a dire che sarà salvaguardata l'attività dedicata ai percorsi oncoematologici e alle prestazioni legate alla continuità assistenziale o terapeutica. Anche i privati, ha dichiarato sempre l'assessore alla sanità, per tutto il periodo dell'emergenza saranno tenuti ad accogliere i pazienti no covid nel caso dovesse rendersi necessario il loro trasferimento dalle strutture pubbliche, rimodulando allo stesso tempo le loro attività di elezione. I direttori generali delle ASL hanno la responsabilità, nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni del Ministero, di individuare le strutture covid hospital, provvedendo all'adeguamento dei necessari requisiti strutturali funzionali e di personale. Disciplina più stringente anche per le visite ai degenti. L'accesso a parenti e visitatori nei reparti sarà consentito solo durante l'orario di visita e a un solo visitatore per paziente. Infine divieto d'ingresso a tutti coloro che presentano patologie simili influenzali.